Ciao! Amo la corsa perché vuol dire vedo lo spirito libero! Stiamo arrivando al punto più alto del percorso arcoattese permanente, a 345 metri la cascina Peglioli, detto in gergo budistico Cimacoppi! Questo giro vengo sempre a farlo, è bellissimo! Ciao! Ecco che il giro sta per finire, siamo arrivati a Vigostano, un ottimo percorso per poter essere ordinario!